Il progetto cavolo di scappato cani mi sembra anche abbastanza chiaro, è un dispositivo che permette di prevenire gli incidenti dovuti ai cani e come fa a prevenirli? Di solito gli incidenti causati appunto dai cani avvengono di notte perché non si vede il cane e quando si vede l'aria di spazio. Quindi questo dispositivo è un collare che non appena la luce cala, grazie a un sensore di luminosità, attiva dei led in modo tale che il cane venga visto anche abbastanza a distanza, prima che venga l'incidente. Abbiamo preparato gli ultimati che sono per spiegare meglio questo progetto. Il cavolo mi è scappato il cane è un progetto che abbiamo sviluppato insieme, è un collare che si illumina automaticamente all'imbrunire tramite un sensore luminoso e che quindi accendendo dei led permette al cane di essere individuato tempestivamente dal pilota senza essere investito. Questo progetto si chiama cavolo mi è scappato il cane. È un progetto che funziona grazie ad un sensore luminoso posizionato sulla scatola che permette di notte, quando il cane va a fare la passeggiata serale, di accendere questi led per non rischiare di non essere visto dalle macchine. Tutto ciò si può accendere e lo spegnere grazie a questo interruttore e quindi funziona così e si accende. Grazie a tutti.